Bella ragazzi sono BeWolfers e sono tornate le mini recensioni. Oggi parleremo di VRC Pro. Il titolo del giorno è un fedele simulatore di corse per macchinine radiocomandate e sono certo che farà la gioia degli amatori di quest'hobby che ad oggi conta ben pochi esponenti nell'universo videoludico. VRC Pro sembra essere tagliato su misura di appassionato poiché la primissima cosa da sottolineare è la possibilità di acquistare separatamente un adattatore che vi consentirà di utilizzare il vostro telecomando per manovrare quanto avviene a schermo. Quello che potrebbe sembrare un aspetto secondario è invece il simbolo di quanto fedele possa essere questo titolo che vi consentirà di entrare nel dettaglio della progettazione dei settaggi delle macchine proposte a tal punto da consentire un'immersione all'interno del gioco pressoché totale. VRC Pro permetterà alla guida di diverse macchinine radiocomandate realmente esistenti su diversi percorsi provenienti da tutto il mondo anch'essi realmente visitabili e percorribili. La cosa che stupisce è però l'incredibile dettaglio con cui propone ai propri utenti i diversi settaggi testabili non solo per quel che congiene le macchinine ma anche caratteristiche ambientali come il grado di umidità o la temperatura esterna permettendo quindi all'appassionato di replicare indoor e in qualsiasi momento diverse situazioni. Tutta questa cura nel dettaglio e la fedeltà proposta premiano decisamente i gameplay di questo titolo se sia un appassionato di quest'hobby penalizzando invece il neofita con una mole di menu e informazioni decisamente poco user friendly se non si è già adentrato in questa passione. Va da sé che la grafica proposta e il comparto sonoro risultano essere decisamente secondari per importanza e quindi si può chiudere tranquillamente un occhio su di una certa arretratezza per quel che riguarda entrambi gli aspetti. Il difetto principale di questo titolo è al tempo stesso il suo più grande pregio. La parola ripetuta più frequentemente durante questa mini recensione è appunto fedeltà ossia quello che VRC Pro vuole essere, una simulazione fedele di una passione poco rappresentata degnamente nell'ambito del gaming. Questo purtroppo taglia fuori tutti i neofiti ed anche i giocatori casuali che non troveranno quelle modalità tipiche dei videogiochi arcade e che a mio avviso dovrebbero tenersi alla larga da questo gioco. Io stesso vi confesso che ho avuto non poche difficoltà per testare questo titolo poiché la guida di macchinine radiocomandate non fa parte delle mie passioni e sicuramente tale carenza si vedrà nelle pessime evoluzioni a schermo. Chiedo infatti scusa a tutti gli appassionati per le tristissime esibizioni di una paggine fin qui manifestate. Se invece amate quest'hobby troverete in voi RC Pro il vostro più fedele alleato. Sviluppato dalla Virtual Racing Industries e proposto su stima a 39,99€ non mi rimane altro a dire su questa simulazione. Spero che il video vi sia piaciuto e se così lasciate un like, commentate e condividete ma soprattutto iscrivetevi per non perdere nessuna mini recensione. Grazie e alla prossima. Ciao.